Benvenuti e bentornati amici e fenauti. Oggi parliamo di un tema che mi sta particolarmente a cuore, cioè l'arte come dialogo con il mondo e per farlo ho scelto di stare in una foresta, perché ci immergiamo nell'universo infinito della creatività. Però attenzione, io non parlo della creatività tipo ho fatto una foto e adesso sono diventato un fotografo o un artista. No, parlo di quella creatività che ti scuote dalle fondamenta, che ti fa sentire vivo, che ti fa dimenticare di mangiare, di dormire e di fare qualsiasi altra cosa che non sia creare e quindi fotografare. Oggi perciò non parleremo di tecniche oppure di strumenti, ma di qualcosa di molto più profondo, molto più significativo. Parleremo cioè di come l'arte e la fotografia sono un dialogo continuo con tutto quanto quello che ci circonda. Ogni scatto che facciamo è come una frase in una conversazione più ampia con la cultura, con la società e perfino con noi stessi. E così come succede in ogni buona conversazione, quello che conta non è soltanto quello che diciamo, ma anche come sappiamo ascoltare. E per ascoltare serve osservare proprio e interagire con il mondo in maniera autentica. Che sia perciò la bellezza di un tramonto, oppure l'ingiustizia di una situazione sociale, ogni emozione, ogni pensiero può diventare un alimento perfetto per la nostra creatività. Ma questo non è tutto, perché per essere veramente efficaci dobbiamo anche essere in grado di metterci nei panni degli altri. Quindi dobbiamo essere in grado di vedere il mondo da diverse prospettive, di capire come gli altri pensano e come gli altri sentono. E questo non soltanto arricchisce la nostra arte, la nostra fotografia, ma ci rende soprattutto delle persone migliori. E non dimentichiamo per finire anche l'importanza del confronto e del dibattito. Guardate per esempio i grandi artisti della storia, da John Lennon a McCartney, che si odiavano e si amavano contemporaneamente, e anche i grandi pittori del Rinascimento, hanno creato dei veri e propri capolavori, non isolandosi dal mondo, ma confrontandosi, sfidandosi e ispirandosi a vicenda. E io lo so che adesso qui con tutta questa vegetazione posso sembrare un cretino, però vi assicuro che tutto quanto ha un senso, perché dovete immaginare la vostra mente come un giardino. E un giardino ha bisogno di cura, ha bisogno di acqua, di luce, di nutrimento, per la creatività è la stessa cosa. Non può crescere la creatività in un terreno arido, dove l'unico nutrimento è la noia oppure la disattenzione, perché ha bisogno proprio di una mente attiva, cioè curiosa, nel mio caso anche scelerata, però deve essere una mente pronta a esplorare ogni angolo del possibile e dell'impossibile. E la cosa più bella è che ognuno di noi ha questo giardino dentro. E sì, anche tu che stai guardando e che pensi di non avere un filo della creatività, ti stai sbagliando, perché la creatività non è un dono per pochi eletti, è una scintilla che abbiamo tutti e oggi in questo video scopriremo anche come trasformare quella scintilla in un vero e proprio incendio. Abbiamo parlato di come la creatività sia come un giardino che ha bisogno di cura, giusto? Bene, adesso non ci resta che parlare del giardiniere, perché ogni giardino ha bisogno di un giardiniere e quel giardiniere sei proprio tu. E un buon giardiniere si pone delle domande, tipo quant'acqua do? Qual è il migliore fertilizzante? Qual è il momento giusto per la semina oppure per la raccolta? O qual è il momento giusto per potare? Lo stesso vale anche per la creatività. Quindi un artista, un vero artista, è una persona curiosa, è un eterno curioso. Cioè non si accontenta di fare, vuole anche sapere il perché, il come, il quando. E queste domande sono tutte quante il motore che alimenta l'arte. Ti spingono a esplorare nuovi orizzonti, a sperimentare nuove tecniche e a cercare anche delle nuove influenze. E non parlo soltanto di domande tecniche, parlo anche di domande che scavano nell'anima, che ti fanno riflettere su chi sei, su cosa vuoi dire e anche sulla tua arte. E quindi perché questa foto, perché questa nota, oppure perché questa parola? Queste qui sono tutte quante le domande che separano un dilettante da un vero e proprio artista. La qualità della tua arte è direttamente proporzionale alla profondità delle domande che ti poni. Quindi non devi avere paura di interrogarti oppure di metterti in discussione. Si sbaglia, però è così che si cresce ed è così soprattutto che si diventa grandi. Ok, abbiamo il nostro giardino, abbiamo anche il nostro giardiniere che è instancabile, che è sempre lì a porsi delle domande. Però che cosa succede esattamente se il terreno è sterile, cioè se è arido? Cosa succede se non c'è il nutrimento? Ed è proprio qui che entra in gioco il concetto del nutrimento mentale. Immagina infatti la tua mente come una spugna, sempre pronta ad assorbire. Ogni libro che legge, ogni film che guardi, ogni canzone che ascolti, è tutto come un goccio d'acqua che inumidisce quella spugna. E più la spugna è umida, più è facile strizzarla per riuscire a far, a ottenere qualcosa di nuovo, di unico, che sia tuo. Però attenzione, perché non tutto quello che è liquido è buono per la nostra spugna, perché se la inzuppiamo di roba scadente, otterremo soltanto roba scadente. Quindi scegliamo con cura, leggi autori che ti sfidano, ascolta musicisti che ti emozionano, osserva artisti che ti lasciano sempre a bocca aperta e guarda ovviamente i canali YouTube come questo. Però poi assapora, cioè goditi ogni goccia di quel nutrimento come se fosse l'ultimo. Ma non dimenticare di variare la tua dieta, perché un buon artista è come un buon cuoco, cioè sa mescolare gli ingredienti per ottenere qualcosa sempre di straordinario. E quindi non limitarti a un solo genere, una sola forma d'arte, esplora, sperimenta, osa, soltanto così potrai dire di avere veramente nutrito la tua creatività. Adesso però arriviamo al bello, perché parliamo delle muse, cioè quelle entità etere che ci sussurrono all'orecchio quando meno ce l'aspettiamo. E dove le troviamo queste muse? Nei giardini? Sono forse nascoste in qualche angolo remoto dell'universo? No, no, sono molto più vicine di quanto voi possiate pensare. Quindi non aspettate che l'ispirazione vi cada dal cielo, andatevelo a cercare. Nella quinta sinfonia di Beethoven, per esempio, oppure nelle musiche dei Beatles, nelle pagine di Nassin Talebo, oppure di Donato Carrisi. Questo è il segreto. Le muse sono ovunque, basta soltanto saperle riconoscere. E ovviamente scrivetemi sotto nei commenti quali sono le vostre muse ispiratrici. Per me, per esempio, sono un mix di arte, di cultura e di attualità. Mi piace leggere le poesie di Céline, i libri di Proust, ma mi piace guardare i quadri di Renoir, Manet, Hopper, che sanno tanto, che hanno tanto sapore di street photography. Oppure ai quadri di Kandinsky, passando poi per le canzoni di Belli di Salmo, dei Plasibo, dei Reggio, oppure del Teatro degli Errori. Però attenzione, perché le muse sono delle creature esigenti, non basta soltanto invocarle, bisogna anche meritarsene. E come si fa? Mi chiederete. E' semplice, impegnandosi, studiando, praticando. Soltanto così potrete dire di avere veramente catturato l'essenza dell'ispirazione. E un ultimo consiglio, se me lo posso permettere, non chiudetevi in una bolla. Le muse amano la varietà, l'ecletticismo. Quindi esplorate, mescolate, create il vostro personale cocktail di ispirazione e poi bevetene fino all'ultima goccia. Che si tratti di libri, di film, di musica o anche di altre forme d'arte, è fondamentale sapere scegliere sempre quello che veramente ci piace, quello che ci fa crescere come artisti e anche come persone. Si dice che siamo quello che mangiamo, invece preferisco credere che diventiamo quello che mangiamo. E quindi l'unico mio consiglio a voi, cari effenauti, è diventare persone ricche di interessi. Soprattutto cercate di essere democratici. Mentre lo dico so già che Samuele mi odierà e mi toglierà il segui, però vivere nell'eco della propria mente non serve alla tua crescita, alla tua capacità di visione interiore, né all'abilità di comprendere le condizioni degli altri, oppure di sentire come pensano e di pensare come gli altri si sentono. Impariamo ad essere tolleranti, ad accettare consapevolmente idee ed impressioni che sono in contrasto con il modo di vedere e di pensare. Tutti quanti gli aspetti della nostra istruzione, delle nostre conoscenze, delle nostre influenze, del nostro background e delle interazioni con il mondo e con tutte quante le persone che incontriamo vengono messi a fuoco ogni volta che premiamo il pulsante di scatto. Gran parte dell'arte e della scrittura passa contemporaneamente attraverso l'attrito e l'armonia. Quindi guarda le fotografie che proprio non ti piacciono con lo stesso interesse che dedichi alle immagini che ami. Entrambe possono costituire delle importanti esperienze di apprendimento. Ricordatevi che l'arte non è un monologo, è un dialogo. E quindi la prossima volta che premerete il pulsante di scatto, ricordatevi che state partecipando a una conversazione che è millenaria, una conversazione che può cambiare il mondo, una immagine alla volta, una foto alla volta, una nota alla volta. Ok amici, ora che abbiamo parlato di giardini, di giardinieri, di nutrimento mentale e addirittura di muse, a che serve tutto questo se non lo applichiamo direttamente nelle nostre fotografie? E' semplice, dovete focalizzare la vostra idea, andarci in profondità e soprattutto dovete fotografare. Tutte quante le idee del mondo non valgono nulla se restano chiuse in un cassetto. Quindi prendete tutto quello che avete raccolto, mescolatelo, agitatelo e voilà! Avete una foto che è il riflesso di tutto quello che siete e di tutto quello che avete imparato. Ciao e alla prossima settimana! Grazie a tutti!